Ciao io sono Luca di approccialla.it e in questo video parleremo di come trovare una fidanzata in quattro semplici step Ma per iniziare c'è un'importante novità ovvero che dal 5 al 12 agosto 2021 riapre la guida anticonvenzionale per una relazione di coppia e successo acquistabile singolarmente oppure è gratis acquistando uno qualsiasi dei miei videocorsi dopo il 12 agosto 2021 chiude di nuovo fino a data da destinarsi non sarà più acquistabile poi fino a data da destinarsi trovi tutte quante le informazioni sul link in descrizione oppure sul sito www.approccialla.it se hai domande o dubbi c'è il mio team di esperti che ti può rispondere a qualsiasi domanda in qualsiasi momento c'è il numero di telefono in descrizione e anche il contatto whatsapp per parlare su whatsapp quindi parliamo di come si fa a trovare una fidanzata in quattro semplici step che lo specifico non è quattro semplici step, non è frase magica 1, frase magica 2 non so tattica manipolatoria segreta oscura numero 3 cioè non è quello ok ci sono dei passaggi che non è non è che la ragazza ti trovi una fidanzata magicamente ci sono delle cose da fare adesso le vediamo ma è importante capire bisogna darsi da fare non è che quattro semplici step magici che te la fanno tu non esci e la fidanzata ti viene a bussare a casa tua quindi non funziona così quindi il primo passo, il primo step è capire esattamente che tipo di ragazza cerchi come deve essere fatta se non sai quello che cerchi come fai a trovarlo? quindi qua sorgono già i primi problemi quindi devi sapere esattamente come è fatta questa tua ragazza ideale in realtà non puoi sapere qual è il tuo tipo di ragazza ideale se non hai fatto esperienza quindi invito anche a fare esperienza, a conoscere diverse ragazze non fermarsi alla prima ragazza con cui vai a letto perché altrimenti non fai nessun tipo di esperienza pensi che lei sia speciale ma no, è semplicemente che non hai mai ricevuto attenzione e validazione da parte del genere femminile quindi è la prima ragazza che ti dà un po' di validazione quando ci vai a letto ti senti bene, pensi che lei sia unica per questa sensazione che stai trovando ma è semplicemente non esperienza quindi questi sono altri discorsi quindi conosce ragazze nuove, ragazze diverse consiglio caldamente anche di imparare l'inglese conoscere ragazze di diverse nazionalità conoscere ragazze di diverse età quello che pensi che ti piaccia è quello che ti è stato messo in testa che ti dovrebbe piacere tutti i vari detti italiani sono cazzate moglie e buoi dei paesi tuoi ma che cazzo vuol dire? ma non è vero cioè puoi avere anche una ragazza che non è per forza italiana se tu sei italiano quindi non sta scritto da nessuna parte eh però la tradizione vuole che la tua fidanzata, tua moglie deve essere dello stesso paese ma perché? a livello di stereotipo sociale c'è anche la cosa che l'uomo deve essere quello più adulto nella relazione a livello proprio di età anagrafica e la donna deve essere o della stessa età oppure un po' più giovane ma chi l'ha detto? è semplicemente uno stereotipo sociale ma che non vuol dire niente io sono sempre uscito con ragazze più grandi di me di 2, 3, 5, 7 anni 3 volte anche di 10 anni 15 anni, 20 anni più grandi di me quindi non... cioè invito a sperimentare per capire poi effettivamente quello che ti piace quindi per sperimentare però di parlare inglese magari e questo non è un concorso su come si impara l'inglese quindi capire effettivamente come deve essere fatta la tua ragazza ideale dopo hai fatto esperienza quindi chiaramente partirai con un'idea di come deve essere fatta la tua ragazza ideale ti consiglio anche di scriverti proprio le caratteristiche di come deve essere fatta la tua ragazza ideale sia a livello di carattere, personalità deve essere estroversa deve essere gentile deve essere... non so si deve prendere cura di me che deve saper cucinare che cazzo ne so le caratteristiche che ti piacciono e questa lista che invito a fare no, non è una roba artificiale, meccanica no, è una cosa utile da fare e la giorni poi anche a distanza di tempo ma a mano le fai esperienze io nel 2019 sono stato in vacanza con una ragazza conosciuta appunto da Proci giorno per strada ci ho andato a letto il giorno stesso siamo stati insieme per un po' poi dopo siamo andati anche in vacanza insieme dopo la vacanza standoci a contatto tutto il giorno per svariati giorni ho scoperto altre cose che deve avere la mia ragazza ideale che non deve avere quindi la lista poi l'aggiorni anche a distanza di tempo ripeto, cioè se pensi sia una roba strana, artificiale se non so che dir ti chiudi questo video abbandona questo video perché questo è esattamente il modo tramite il quale si trovano poi ragazzi sempre di maggior qualità e ragazzi allineati effettivamente a come le vuoi veramente se non sai, se non hai chiaro, cristallino quello che cerchi non lo puoi trovare e scriverlo è una cosa che aiuta molto non so poi a livello ovviamente anche fisico quindi come deve essere fisicamente se magari hai preferenze anche di coloro di capelli di come deve avere i capelli il colore degli occhi del fisico non lo so tutte quante queste cose più la lista è dettagliata meglio è non so, anche magari a livello di non so, preferenza sessuale quindi se per esempio magari uno vuole una ragazza che è molto più attiva a letto se è una ragazza che non so, se fate sesso le va bene se non fate sesso le va bene uguale oppure una ragazza che vuoi magari che ti svegli nel cuore della notte per far sesso con te quando dormite insieme quindi sono due intensità sessuali diverse ci sono due ragazze che hanno più necessità di far sesso e ragazze che hanno meno necessità di far sesso quindi però tutte quante le ragazze hanno necessità di far sesso però ci sono diversi, diciamo, interessi non so, ma dire diverse intensità quindi se tu hai un'intensità sessuale molto alta e la ragazza molto bassa vi troverete poi male in una relazione poi step numero due un'altra che hai chiarito con te stesso che ragazza cerchi devi agire so che è una cosa strana per tante persone ma bisogna agire come detto, la tua ragazza ideale non verrà a bussarti magicamente alla porta di casa senza che tu faccia niente quindi bisogna agire su due, diciamo, piani paralleli ovvero che ho cercato di farla più chiara possibile sicuramente agire nell'uscire a conoscere ragazze costantemente e frequentemente conoscendo una ragazza ogni tanto non andrei da nessuna parte quindi conoscere ragazze a freddo non soltanto tramite la tua cerchia di amici, amiche colleghi di lavoro ma soprattutto a freddo quindi con approcci di giorno per strada in discoteca tramite situazioni serali quindi approcci a freddo in generale possono essere anche approcci online però conosci ragazze regolarmente e costantemente e il secondo piano sul quale andrei ad agire è nel rispecchiare il più possibile quelle caratteristiche che hai scritto nella lista quindi per esempio vuoi una ragazza che sia estroversa tu sei estroverso? vuoi una ragazza che sia economicamente indipendente tu sei economicamente indipendente? vuoi una ragazza che sia X tu sei X quindi perché tendiamo ad attrarre il tipo di persona che siamo non è vera la cosa si attraggono gli opposti sono cazzate non so chi le abbia messe in giro quindi più rispecchi effettivamente quelle caratteristiche poi chiaramente con del buon senso non è che se cerchi una ragazza che abbia 30 anni e tu non hai 30 anni allora non chiaramente sulle caratteristiche non modificabili quelle diciamo genetiche ovvero dell'età del colore dei capelli non è che ti devi tingere i capelli quindi mi rivolgo a persone che hanno un minimo di buon senso anche se però il problema è che il buon senso non appartiene alla maggior parte delle persone quindi non so veramente cosa dire sulla voce quindi ognuno appichi un po' il buon senso non è che se cerchi una ragazza che ha i capelli rossi ti devi tingere i capelli di rosso io spero veramente che non ci sia gente che capisca certe cose quindi questo era lo step numero 2 ovvero agire bisogna darsi a fare se no la ragazza che cerchi non arriverà per caso poi lo step numero 3 è portarsi la ragazza a letto quindi no non sei uno superficiale no non è una cosa non stai fregando la ragazza no non la stai manipolando si la ragazza vuole anche far sesso sono discorsi molto più lunghi questi finché non vai a letto con la ragazza non c'è nessun tipo di possibilità di relazione è che si inizia c'è un falso mito che io lo sento da quando ho iniziato a insegnare che mi veniva chiesto molto spesso adesso di meno però mi veniva chiesto molto spesso inizialmente ma tu insegni a rimorchiare per far entrare le persone in una relazione o per portare le persone a far sesso con le ragazze questo denota nessun tipo di conoscenza della materia perché la cosa parte con il sesso e poi dopo si aprono le due porte ovvero una troppa amicizia oppure una relazione di coppia dove siete fidanzati ma la cosa parte con il sesso non significa dopo due secondi significa però il prima possibile il prima possibile molto spesso è il primo appuntamento sei il giorno stesso è il giorno stesso no non sei superficiale no non la stai fregando anche la ragazza vuole fare sesso il sesso è uno dei motivi principali dei tradimenti che tra l'altro non esistono neanche poi magari ne parliamo un po' meglio nei video di questi giorni ma fra l'altro è trattato in maniera molto abbondante nella guida anticonvenzionale per le relazioni coppie successo sono discorsi abbastanza lunghi quindi portarsi a ragazza letto la società diciamo costruisce un castello mentale nella testa dell'uomo dove gli fa pensare che le donne non vogliono far sesso sparsi come le donne e gli uomini vengono giudicati in maniera diversa dagli standard sociali un uomo che va letto con tanti ragazzi a livello di stereotipo sociale viene acclamato come figo come un grande una donna che va letto nel sesso viene additata come una faccia come una zoccola come una troia e non le faccio io le regole degli stereotipi sociali semplicemente bisogna prendere atto che è così che sia giusto che sia sbagliato è irrilevante semplicemente è così quindi una donna deve essere più cauta nel manifestare troppo interesse nel sesso e quindi l'uomo ci casca quindi poi di conseguenza l'uomo pensa che no la donna non vuole far sesso allora se ci faccio sesso al primo appuntamento la sto fregando no anche lei lo vuole semplicemente non può manifestarlo in mania troppo esplicita le donne hanno il doppio determinazione nervosa nel clitorio hanno il doppio determinazione nervosa che ci sono nel pene provano il doppio scientificamente oggettivamente provano il doppio del piacere nel sesso rispetto all'uomo quindi pensa tu uomo l'ultima volta che hai fatto sesso per chi magari ha poca esperienza magari è anni e anni fa decenni fa però le donne provano il doppio del piacere nel sesso nel sesso rispetto all'uomo la donna ha diversi tipi di orgasmi l'uomo 1 da quello che so io quindi la donna ha l'orgasmo vaginale l'orgasmo anale l'orgasmo clitorideo l'uomo ne ha soltanto uno l'orgasmo dell'uomo dura 3 secondi l'orgasmo della donna dura 20 secondi tutte cose da sapere la donna piace far sesso tanto quanto l'uomo in realtà anche di più però per i standard sociali non può farlo sapere in maniera troppo esplicita non può mostrarlo in maniera troppo esplicita altrimenti verrebbe giudicata come una faccia come una zoccola come una troia chiaramente le stesse sono cose che la ragazza non vuole diciamo non sono tutte etichette che la donna non vuole che gli vengano appiccicate quindi deve fare magari un po' la difficile tutti i discorsi piuttosto lunghi che non stiamo adesso a trattare qua però il concetto è per dire che devi portarti una ragazza a letto se la vuoi come fidanzata se finché non ci vai a letto è una relazione platonica e dopo un po' oltretutto la ragazza si stufa se ci continui a uscire perché hai in testa credenze che sono sbagliate che ci devo uscire un sacco di volte poi un prima e poi faremo sesso in qualche modo a parte non c'è in qualche modo cioè che devi sapere come accadono le cose se no magari accadrà in qualche modo dopo 800.000 appuntamenti e non è neanche detto che succeda perché quello che succede molto spesso è che a un certo punto la ragazza si stufa perché il sesso è importante per una ragazza e se a un certo punto la cosa non si concretizza la ragazza si stufa e ti lascia ma non è che ti lascia cioè non siete mai stati insieme di solito nelle situazioni da circolo sociale la tempistica è più o meno un mese i casi eccezionali i ragazzi che hanno anche particolare pazienza arrivi a due mesi dopo ti scarica se non ci sei a noto letto e mi ricordo di amici in passato quando ancora non non mi interessavo alla sfera del miglioramento sentimentale amici che siano fidanzati per caso ma non erano fidanzati perché non ci erano mai stati letto con la ragazza in questione dopo un paio quindi la cosa gli era piovuta al cielo quindi non avendo competenza quando la fortuna ti colpisce se poi non trova competenza la fortuna svanisce e lì la persona penserà sono stato sfortunato no è che sei stato incompetente non sapevi come si faceva quindi bisogna mettersi in condizione di studiare come si fanno queste cose non sono cose genetiche nono devi nascere già bravo nono non è da sfigati imparare queste cose io direi che è più da sfigati non imparare queste cose e continuare ad andare in bianco con le ragazze piuttosto che imparare queste cose e poi avere risultati con le donne avere una fidanzata effettiente che ti soddisfi non che ti è capitata per caso una donna che ti sei scelto che effettivamente è allineata con la tua mentalità io direi che è molto più figo questo piuttosto che continuare a farsi tutta la vita da soli a pippe a escort oppure con una ragazza che come avevo detto ti è capitata per caso non sai effetti discorsi molto lunghi sui quali desidero non divagare adesso quindi che stavo dicendo la cosa dei miei amici del passato era praticamente del 2015 2014 e dopo un po' la ragazza di turno si è stufata e ha lasciato il ragazzo in questione ma perché il sesso è importante per la ragazza quindi finché non ci vai letto con la ragazza non siete fidanzati potete anche dire che siete fidanzati ma non lo siete a livello emozionale lei non sarà attaccata a te come se effettivamente siete realmente fidanzati e per essere realmente fidanzati dovete andare a letto insieme poi quando siete in una relazione quando ci sei andato a letto adesso lo vedremo nel passo numero 4 lo vediamo già subito ovvero semplicemente continuare a frequentarla anche in situazioni di giorno perché appunto la differenza poi con la tua amicizia è che in una tua amicizia vi vedete semplicemente per far sesso vi vedete direttamente a casa tua a casa di lei o al massimo per drink e sesso questa è la tua amicizia con una relazione appunto di coppia semplicemente vi continuate a vedere vi vedete anche in situazioni di giorno fate magari anche attività dove poi non fate sesso magari andate semplicemente a mangiare insieme e poi non fate sesso ci può anche stare e non è che dovete far sesso per forza tutte le volte anche se sarebbe meglio però non è per forza necessario ci sta anche fare un'uscita dove vai mangiare con la tua fidanzata e poi magari ognuno se ne va a casa e basta quindi lo stato della relazione che sia un'altra amicizia o una relazione dove siete fidanzati lo stato della relazione è dettato dalle azioni non da quello che vi dite voi potete anche mettervi a tavolino e dire ma quindi cosa siamo siamo fidanzati non siamo fidanzati non conta quello non conta la conversazione che avete contano le azioni se voi vi mettete a tavolino e vi dite siamo fidanzati non siamo fidanzati poi ha consentito il fatto che siete fidanzati ma non conta finché poi effettivamente non andate letto e non continuate a frequentarvi come esattamente al contrario voi potete anche non fare questo tipo di conversazione io ovviamente non mi succede mai di avere questo tipo di conversazione con le ragazze quando ci vogliono instaurare una trauma amicizia oppure una relazione più seria semplicemente imposto la cosa con le azioni quindi ci vado letto e se la voglio come trauma amica ci sono delle azioni specifiche descritte appunto all'interno della guida sulle relazioni perché c'è anche la parte sulla trauma amicizia se vuoi una relazione in coppia con una ragazza dove vuoi essere fidanzato con lei devi andarci a letto e continuare poi a frequentarla e dopo un po' siete fidanzati ma non perché ve lo siete detti sono le azioni che dettano qual è la relazione non perché vi mettete a tavolino e ve lo dite a parole quello non conta quindi se vuoi capire più nel dettaglio come si fa a entrare in una relazione in coppia con una ragazza e poi soprattutto come manteneremo le relazioni in successo perché è totalmente un lavoro diverso le relazioni in successo sono quelle che hanno la maggior parte delle persone dove si litiga ci sono le palle a vicenda dove ci sia le prime a vicenda dove non si vive in maniera felice discorsi parecchio lunghi se vuoi capire come si fa a entrare in una relazione e poi vivere una relazione effettivamente felice e di successo c'è appunto la guida anticonvenzionale per una relazione in coppia di successo ti ricordo che dal 5 al 12 agosto 2021 la guida sulle relazioni è riaperta è acquistabile singolarmente oppure gratis acquistando uno qualsiasi dei miei videocorsi dopo il 12 agosto 2021 chiude di nuovo e non è più acquistabile fino a data da destinarsi trovi tutte quante le informazioni cliccando sul link in descrizione oppure sul sito www.approcciala.it se hai domande puoi contattare il mio team di esperti che ci sono a disposizione in qualsiasi momento per rispondere a qualsiasi tua domanda trovi i contatti del mio team in descrizione c'è sia il numero di telefono per parlare a voce e anche il contatto whatsapp per parlare via messaggio su whatsapp detto ciò ci vediamo al prossimo video ciao